La Giunta regionale della Toscana ha approvato una legge che stanzia 300.000 euro per rifondere le aziende danneggiate dalla chiusura del viadotto del Puleto sulla E45 con l'impegno a non licenziare i lavoratori. Il presidente Enrico Rossi è tornato a Pieve Santo Stefano con l'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli per illustrare ai sindaci e ai rappresentanti delle categorie economiche il contenuto del provvedimento che ora passa al Consiglio regionale. Poi abbiamo predisposto un pacchetto di sostegni finanziario all'economia che andranno avanti a prescindere anche dal tempo di ripristino, di riapertura della strada anche al traffico pesante. Prevedono interventi col microcredito fino a 20.000 euro per le piccolissime imprese, imprese artigiane che si restituiscono a partire dal terzo anno con interessi zero per 10 anni. Fondi rotativi per le imprese più grandi e poi abbiamo stabilito un contributo per una promozione particolare dal punto di vista turistico di tutta la valle. Per il fondo rotativo sono stati stanziati 500.000 euro mentre per la promozione turistica ne sono stati stanziati 50.000. L'obiettivo ora è la riapertura al traffico pesante entro un mese della E45 e la riapertura della vecchia Tiberina Trebisse in tempi rapidi. Le carte sono pronte affinché ANAS possa organizzarsi, intervenire e riaprire la Trebisse. Era un obiettivo che avevamo richiesto con grande forza e questo avverrà. La regione, ha detto Ceccarelli, sta anche monitorando l'ITER per la rinazionalizzazione della strada.